Prima ripresa. Vai Emilchè! Dai Emilchè! Così! Devi fare quello! Lo devi fare! Ci butta solo tu! Ci vedi, ci vedi, ci vedi! Il tetto montante! Butta il montante là! Il tetto montante! Il montante desce! Bravo! Bravo! Dai Marco! Seconda ripresa! Trovai! Bravo! 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 Al passaggio! Bravo! Alla faccia, butta la pancia! Vi attacca sulle mani, sulle mani! Spostati ma po' che è attaccato! Attacca Marco! Non vanno tutto l'anno! Terza e ultima ripresa! Non vanno tutto l'anno! Vai Micho! Dai e mi dai, vai mi! Vai mi vai mi vai mi! VIC! Guarda il cazzo adesso! Guarda il cazzo adesso! Non dà verso Marco! Dai Marco! Signori e signori, per quest'ultimo match vince appunti Geografo Mirko! Un applauso! Grazie! 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 Grazie!